Volutuose elettrici e preconoscenza elettori, ci troviamo davanti a un periodo difficile e stimolante, stiamo per tuffarci nella grande orgia elettorale. Io e i miei amici, perché questo siamo, amici, abbiamo deciso di batterci per difendere il patrimonio di questo paese, la famiglia, la natura, la bandiera. Affronteremo questa prova compatti, ma ognuno con le sue esperienze, con le sue diversità, con le sue idee che contribuiscono. Ciccio, quanto ci mettiamo a cambiare sta gomma, Cribbio? Ho finito. Senti, non è che stai provando lo spot, vero? No, no. Cioè sì, me l'ha venuta l'ispirazione. Ecco, le ispirazioni te le fai venire nel tuo giorno di libertà, il giovedì. Dai, forza che mi aspetta Ciampi, accendi sta macchina. Perché pensavo che... Ah, ci mettiamo a pensare adesso. Pensa e guidare, vai che è meglio. Possiamo passare per il centro.